Senza fondi ai comuni costieri abruzzesi la stagione estiva 2020 rischia di rivelarsi difficile. È questa la prima considerazione dei sindaci della Costa dei Trabocchi, Fossacesia, Ortona, Torino di Sangro, Rocca San Giovanni e San Vito Chietino alla lettura dell'ordinanza numero 69 che contiene alcune indicazioni proposte dal Lancio Abruzzo. Il provvedimento riguarda la gestione delle spiagge libere che aspetta ai comuni. È davvero complicato coniugare sicurezza, sorveglianza e controllo con le aspettative che i cittadini nutrono per poter frequentare gratuitamente le aree libere da Martinsicuro a San Salvo proseguono i sindaci. Stiamo parlando di 100 chilometri di spiagge su 145 che misura l'intero tratto abruzzese. Sarà ancora più complicato sulla Costa dei Trabocchi con le sue eccellenze ambientali, riserve marine e anche con le sue tante discese a mare che permettono ai fruitori di raggiungere grandi e piccole spiagge libere la cui sorveglianza diventerà ancora più complicata. A chi affidare il compito di controllo e di rispetto delle distanze sociali di sicurezza, si chiedono i sindaci. Alcuni comuni hanno deciso forme di collaborazione con associazioni e nuclei di protezione civile, ma tutto ciò avrà comunque un costo ingente. Né si può fare ricorso a personale interno, come ad esempio la Polizia Municipale, che ha un numero insufficiente di dipendenti o figure del proprio organico per ottemperare alle prescrizioni previste nelle disposizioni sanitarie di sicurezza perché non ci sono i fondi. Senza contributi, annunciano i sindaci, saremo costretti per garantire l'utilizzo delle spiagge libere alla sola affissione nei punti di accesso di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro e il divieto di assembramento. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Aggiunta, ha stanziato un milione e mezzo di euro destinandoli alle concessioni dei maniali che i comuni hanno, ma si fa riferimento a piazzette o strade che ricadono in zone dei maniali marittime. Uno stanziamento ritenuto insufficiente dai comuni e che comunque avrebbe dovuto considerare tutte le spiagge libere. Se davvero si vuole contribuire ad una ripresa di uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi determinata dal Covid-19 e fondamentale per l'economia di tanti comuni cosi e abruzzesi, concludono i sindaci, sono necessari interventi finanziari della regione e del governo.